Gian Piero Gasperini, si inizia nel migliore dei modi questo girone di ritorno e soprattutto si riscatta la battuta d'arresto subita nel girone di andata a Frosinone? Sì, sicuramente sì, ci tenevamo anche per quello però ci tenevamo soprattutto iniziare questo girone di ritorno nel modo migliore, ci siamo riusciti facendo la prima mezz'ora fortissima e bene, un buon momento indubbiamente per la squadra quindi peccato fermarci. Ecco appunto la domanda era, anzi la considerazione, peccato fermarsi a questo punto. Va bene, approfitteremo per rimettere a posto un po' tante piccole cose, sicuramente la squadra è cresciuta molto, è cresciuta molto in tanti elementi, non nei soliti, vedo che abbiamo fiducia e quindi ci dobbiamo preparare bene perché poi quando inizieremo tra 15 giorni poi lì dopo non c'è più soste. Poi non vi fermate più e poi subentrerà prima l'Europa League e poi la Coppa Italia, poi insomma saranno più fronti. Tutta roba che ci siamo conquistati sul campo è molto bene, siamo felicissimi di questo e quindi un po' insomma siamo felici di questo momento, cerchiamo di portarlo a lungo più possibile e poi arriverà anche a febbraio insomma la resa dei conti. Mister, oggi hanno segnato anche Zappacosta, anche Olm, due nomi diversi in quella che è, quelli che sono i nomi dei marcatori. Sì sì ma per noi è importante andare in gol con più giocatori, anche fare degli assist con più giocatori, stiamo bene, gli ultimi risultati hanno dato, stanno dando fiducia un po' tutta quanta la squadra e siamo convinti di fare un girone di ritorno anche migliore. Ciao! Ciao!